Buongiorno a tutti, buongiorno. Sindaco, le sembra di aver trovato la disponibilità e quello che si immaginava? Sì, noi ci eravamo lasciati a ottobre con l'allora prefetto Michele Di Bari che ci aveva garantito un impegno da parte del Ministero dell'Interno a cercare di risolvere il problema della permanenza delle migrazioni in città che in certe punte, in cui gennaio, febbraio e dicembre, sono arrivati anche 400-500 persone. Oggi siamo sui 300-350. Obiettivamente è sotto gli occhi di tutti che il problema esiste, si sono resi conto anche il Ministero dell'Interno, il prefetto Nanei, il questore, quindi qualcosa deve essere fatto. Già a suo tempo avevamo individuato l'area di Rio Sorba a Amortola dove tutta l'amministrazione era d'accordo per istituire questo centro di identificazione di 80-100 persone e che doveva avere una permanenza massima di una settimana. Poi purtroppo i tempi ci sono dilattati e oggi finalmente siamo arrivati a conoscere il nuovo responsabile del Dipartimento che ci ha assicurato il suo impegno e l'imperio del Ministero. Cosa abbiamo detto oggi? Abbiamo detto che il punto indicato dalla pubblica amministrazione rimane mortola. Considerato che c'è da fare dei lavori di messa in sicurezza e tutto quello che concerne le opere di urbanizzazione, i tempi si dilattano un tantino. Il problema però è che la 20.000 rimane, la permanenza rimane, centinaia di persone che arrivano e che purtroppo sono in città. Stiamo cercando insieme al Prefettore di individuare una provvisorietà, ma nell'individuare la provvisorietà ancora non definita, ancora non definita, in questi giorni gireremo per la città di Ventimiglia vedere cosa vuol dire provvisorietà e i metri quadri di terreno che servono. Ho chiesto naturalmente i trasporti, che per noi sono essenziali. Quindi l'impegno che i respingimenti si intraprenda come c'era nel 2008-2009 nella mia precedente amministrazione è che tutti i rispegimenti fossero presi e riportati nei centri d'accoglienza fuori di Ventimiglia e fuori in regione. Questa è la prima richiesta che ho fatto. La seconda richiesta è quella dei trasporti. Le persone che arrivano in transito o in cammino, come si dice, alla stazione ferroviaria devono essere presi con i mezzi e portati in questo centro di provvisorio, evitando che siano in città. Questa è l'impegno e la richiesta, è l'impegno che tutti si sono presi. Quindi, il centro definitivo rivale, il rio Assolma, alla morta. Per quanto riguarda una cosa provvisoria per 80-100 persone, andremo a verificare se c'è questa possibilità e dove, ma soprattutto i trasporti. Chi arriva a Ventimiglia viene messo sui pulmi e portato in questo centro per uno giorno, due giorni, tre giorni. I rispingimenti chiediamo che si prenda nuovamente in considerazione tutte le persone che vengono rispiti dalla Francia devono essere accompagnate nei centri adatti. Lei, Sindaco, lo continua a chiedere, però poi alla fine questi pulmi non arrivano mai. Cosa gli hanno detto oggi? Perché siamo già al settimo vertice con la prefettura. Ecco, per quanto riguarda il trasporto delle persone che arrivano a Ventimiglia in ferrovia, questi mi hanno assicurato che ci sarà questo servizio. Cioè, fino al centro? Fino al centro. Per quanto riguarda i rispingimenti, sembra che ci sia un problema legislativo, ma che lo affronteranno, lo affronteranno. Io più che questo lo cerco di chiederlo continuamente perché il servizio che io feci allora, che noi abbiamo fatto allora, era perfetto perché ci restituivano 50 persone, venivano prese e accompagnate dove devono accompagnare. La cosa importante è che questo problema del fenomeno di Ventimiglia, se Ventimiglia non può pagare da sola questo prezzo che è un prezzo altissimo. Io mi auguro, ho già detto anche a relettere, che in questo accordo del Viminale e tra i presidenti si fosse anche la possibilità di approfondire il discorso dell'immigrazione perché le persone che arrivano a Ventimiglia, che oggi mi dicono i dati che il 90% sono irregolari, e quindi queste persone vogliono attraversare il territorio francese, ma non fermarsi in Francia. Questi sono i dati che io ricevo. Quindi su questo dobbiamo lavorarci. Io vedo che il prefetto Nanei è molto attento, il questore sicuramente ci sta dando una grossa mano, non bisogna passare la guagna, perché la città questa percezione di insicurezza non può accettarla. Centro provvisorio quando? Entro quando? I tempi che vi siete dati? I tempi è bisogna trovare il posto. Adesso vedremo. Ha parlato di posti dove sono già state debiti all'accoglienza, ce ne sono stati due, la stazione e il parco Roi. No, la stazione assolutamente no, ma diciamo che il parco Roi è talmente grande, ci sono anche altri spazi a trucchi, vedremo come poterlo fare. A giovedì il prefetto verrà a Ventimiglia e faremo un giro. Naturalmente di questa scelta io informerò tutta la maggioranza, perché tutti devono essere consapevoli di questo, e vedremo quale soluzione prendere per poter affrontare da subito il problema e risolvere il problema. Comunque prima dell'estate? Sì, prima, perché i numeri, guardi, 20 giorni fa erano 20, adesso sono già 200, perché i numeri sanno... Ma se controllano i suoi treni, come avevano detto, come fanno a aumentare di poche settimane queste unità di persone? Questo del controllo dei treni l'abbiamo chiesto più volte, quindi molti vengono fermati a Savono, io vi auguro che vengano fermati a Genova, però obiettivamente le persone in cammino, come tutti quanti noi sappiamo, non è una cosa semplice fermarle. Voi sapete che molte volte purtroppo è già successo in autostrada che qualcuno ha perso anche la vita, quindi non è facile, però obiettivamente che 20.000 deva pagare questo prezzo altissimo, io in qualità di sindaco, spero che sia risolto in modo definitivo, definitivo magari no, ma quantomeno che sia governato. Grazie.